Come capire quando una persona è un narcisista perverso? I 10 segnali. Allora, prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco, seguimi su Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su YouTube, ovviamente tutti i miei canali YouTube, e attiva la campanella così riceverai la notifica di nuovi video, seguimi su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra quattro livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni in seminario dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E veniamo al tema. Come capire quando una persona è un narcisista maligno? I 10 segnali. Allora, i narcisisti maligni hanno caratteristiche che non possono mascherare. Per stare bene, diciamo, bisogna evitare ciò che ci fa stare male. Quindi bisogna evitare tutti i narcisisti. Soprattutto evitare di coinvolgersi. E la cosa fondamentale è cercare di capire quali sono le caratteristiche di questi narcisisti maligni. Cercare di riconoscerli e soltanto riconoscendoli potremmo essere sicuri che non ci daranno problemi, essere sicuri che non ci daranno fastidio, perché la consapevolezza è di avere a che fare con un narcisista perverso, un narcisista maligno, è la cosa fondamentale. Esistono delle persone che emanano energia negativa e soltanto la presenza di queste persone influenza il nostro stato, lo influenza negativamente. Ecco quindi che è molto importante per riconoscere le persone maligne, le persone narcisisti perversi, dai quali dobbiamo mantenere le distanze, soprattutto evitare di innamorarcene, perché innamorarsi di un narcisista perverso, di un narcisista maligno, è veramente la cosa peggiore che noi possiamo fare. Quali sono questi dieci segnali che ci fanno capire? Beh, il primo è che hanno tante facce. Ti cercano, davanti a te magari parlano bene, poi dietro parlano male. Hanno tante facce. Ad esempio, cercano in qualche modo di interagire con te, però poi quando sono in altri contesti parlano male di te, hanno dell'odio di fatto nei tuoi confronti, vogliono danneggiarti, però si manifestano diciamo in modo camaleontico. Ti cercano, ti scrivono e continuano in qualche modo a interagire con te. Si comportano bene quando possono trarre qualche profitto, talvolta fanno buon viso e cattivo gioco, ma poi non si fanno scrupoli di parlare male alle spalle. Non si fanno nessuno scrupolo. Questo è un punto fondamentale. La seconda caratteristica è che vogliono tenere tutto sotto controllo. Sono esseri negativi, con attaccamenti, possessivi, cercano di imporre sempre il loro punto di vista, comunque sia, e pensano, come dire, che la loro opinione sia più importante di quella degli altri, sia giusta. Non li fotte niente se, diciamo, sono in torto marcio. Cioè, questa è una caratteristica fondamentale. Ma cercano di denigrare gli altri, di farli passare sempre dalla parte del torto. Come terzo punto, hanno relazioni che sono basate soltanto su egoismo, cioè devono trarre un beneficio. Non fanno nulla, non soltanto in modo disinteressato, ma in modo da non danneggiare qualcun altro. No, il narcisista perverso gode nel danneggiare gli altri, gode nel fare delle azioni che, di qualunque natura essa siano, che possano danneggiare gli altri. Nulla viene lasciato al caso, analizzano tutto nei minimi dettagli. Questo è un qualcosa di molto, molto importante. La quarta caratteristica è che sono abili, camaleontici, riescono a manipolare al loro piacere le persone. Sono come dei serpenti, sono come dei ragni che riescono a catturarti nella loro rete. Sono subdoli, sono viscidi, usano spesso, ad esempio, la psicologia inversa, usano anche altre tecniche. sono persone estremamente negative. Come quinto punto, sanno dissimulare la realtà, cioè imbrogliano, fregano, dissimulano. Diventano, come diranno, hanno un gioco sporco e lo portano avanti, ma con l'obiettivo poi primario di fare del male alle persone. Quindi cerca di cogliere questi segnali. Il sesso segnali che sono dei bugiarti. sono bugiardi. E quindi anche nelle piccole cose non si preoccupano se le loro bugie possono provocare danni. Anzi, solitamente gli dà piacere. È un divertimento per loro provocare danni alle persone. Quindi le bugie sono parte integrante della loro vita. Quindi questo è un altro punto, è un altro punto fondamentale. Come settima cosa, omettono delle informazioni importanti. Quindi sono ambigui, sono viscidi, nascondono delle cose che potrebbero essere importanti per te. Dicono cose parziali, cercano di seminare zizzagni tra le altre persone. Ecco, questa è un'altra caratteristica, appunto l'ottava. Non dicono mai le cose come stanno. Proprio per seminare zizzagni, per far del male. Quando raccontano qualcosa, non dicono mai le cose come stanno realmente. Sminuiscono alcune cose, costruiscono le loro storie come conviene a loro. Cioè cercano di farti entrare in una realtà, diciamo, nefasta, una realtà negativa. E evidentemente lo fanno proprio per danneggiarti. Perché il narcisista perverso ha proprio questa caratteristica che gode nel danneggiare le persone, gode nel far del male alle persone. Negano i fatti anche se sono ovvi. Negano i fatti. E anzi, ti fanno passare, cercano di farti passare per folle. Ti dico, ma sei matta? Ma sei pazza? Ma sei pazzo? Pur se tu hai una vera, una chiarezza di come sono andate le cose, di quello che è successo, loro negano anche l'evidenza. No, ma io non ho mai detto questo. Guarda che sei tu che pensi questo. Ah, ma guarda che sei tu che ti sbagli. Eh, ma cosa hai mangiato stamattina? Ma sei folle? Ma sei pazza? Hai detto questa cosa e adesso neghi di averla detta. Quando tu magari non l'hai mai detta. Quindi cercano di cambiare la visione dei fatti con falsa interpretazione. Costruiscono e vivono, diciamo, in un proprio mondo che ha la funzione di causare danni, di causare attriti, di causare negatività alla vita delle persone. Ecco, questa è un po' la loro caratteristica. E l'ultimo punto, non chiedono mai scusa. Anche quando sbagliano, anche quando è palese che sbagliano, non chiedono mai scusa. I narcisisti perversi generalmente si legano a persone manipolabili. Il loro rapporto con le persone è sempre calcolato, è sempre finalizzato a danneggiare qualcuno. Il loro atteggiamento rovina la vita di chi li cerconda. Questa è la cosa da tenere presente. sono cattivi, negativi. E anche soltanto la loro presenza energetica influisce negativamente. Quindi, allontanate queste persone, toglietevele dai piedi, allontanatele completamente. Non hanno nessuna valenza, non hanno, dovete togliervele completamente dai maroni. Questa è la cosa fondamentale. Bene. Quindi, prendi le distanze dal narcisista perverso perché rovinerà la tua vita. Per questo video è tutto. Seguimi sul canale, iscriviti, attiva la campanella così riceverai le notifiche dei miei video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasko Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E abbonati al canale. Abbonarsi al canale è facile, basta andare nella home page, tastine abbonati, che si avvicina al tastino iscriviti e poi selezioni l'abbonamento che preferisci. Ti do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti.